Quali saranno i segni più fortunati della settimana dal 23 al 30 ottobre? Per chi non ha visto il video di ieri, cioè dell'oroscopo settimanale, vi consiglio di andare a guardarvelo. Uno, perché dico informazioni più approfondite su tutti i segni, e due, perché ho parlato di quello che è, finalmente, l'entrata del sole in Scorpione. Pertanto, già prima di guardare questo video vi posso dire che ci saranno buone notizie per lo Scorpione, ma veramente vi ricordo di guardarlo il video di ieri, perché è importantissimo, soprattutto per voi, non tanto per me, perché vi do dei consigli su come affrontare la vostra settimana. Ma adesso, bando alle chiacchiere, do il benvenuto a chi si è appena iscritto al canale e chi mi ha incontrato per la prima volta, magari sul suo canale social, YouTube, Facebook, da dove mi stai guardando. Ma bando alle chiacchiere, che io mi dilungo sempre troppo, in quarta posizione, tra i segni più fortunati della settimana, troviamo il Capricorno. Diedi un 7,5 come voto a questo segno, il voto settimanale. Perché? Allora, il Capricorno sta andando bene, soprattutto, lo ricordo, dal punto di vista emotivo. Quello che è l'aspetto professionale per il Capricorno è un qualcosa che sta andando bene. Diciamo che da quando è ricominciato il periodo lavorativo settembrino, il Capricorno si è rimesso in riga e soprattutto ha iniziato a capire che nella vita serve l'equilibrio. L'equilibrio o altro non lo puoi trovare se anche col tuo cuore stai bene. Quindi quella figura da Capricorno freddo, a cui tutti siamo abituati, diciamo, oramai a vedere in ogni situazione, sta lentamente affievolendosi. E infatti, con l'arrivo del Natale, potremmo trovare un Capricorno che inizierà a fare regali a destra e a manca. Non che i regali vadano a testimoniare il fatto che si è diventato più empatico, ma è perché lui diventa molto meno, diciamo, individualista, molto meno narcisista, e penserà un po' di più agli altri. La cosa bella di questo prospetto del Capricorno è che chiaramente non è nemmeno forzato come aspetto, perché gli viene da dentro questo genere di sensazione. E per chi non lo sapesse, diciamo che ne veniamo da una Venere che è andata in Vergine, e quando ciò accade sappiamo come tutte le persone razionali assumono in realtà un atteggiamento molto più romantico, e di conseguenza anche il Capricorno, che è molto razionale. Tornando al discorso finanziario, il Capricorno, diciamo che in mente ha diversi progetti, ma quello per cui si sta concentrando di più è quello per il quale veramente sta dando tanta importanza, e questa importanza avrà veramente dei frutti importanti, scusate il gioco di parole, che verranno raccolti soltanto dopo la fine dell'anno. Ed infatti, ora al Capricorno non voglio dire che si trova in cima alla classifica dei segni più fortunati, perché non sarebbe reale, ma è sulla strada giusta per poterlo diventare nei mesi che verranno. È chiaro che il vostro sole sta per arrivare, sappiamo tutti che oramai dopo lo Scorpione abbiamo più il Sagittario e dopodiché ci siete voi, di conseguenza Capricorno vi basterà resistere ancora un paio di mesi per poter esplodere di felicità, però già anche ora potreste veramente godervela. Passando alla terza posizione troviamo invece il Segno della Riete. Segno della Riete che ne viene da un periodo in cui io, in tutti i miei video, ho sempre sottolineato una cosa, che aveva perso le certezze che aveva un tempo. Le certezze della Riete sono quello che gli dà la carica, sono quello che lo spinge a fare delle cose che magari altre persone hanno paura di fare, proprio perché hanno paura di fallire e di conseguenza la Riete si sentiva strano, come se non appartenesse ad un corpo al quale è sempre appartenuto. Però in realtà questa insicurezza sta sparendo e sta tornando ad essere la Riete di una volta. Forse in gioco stanno entrando anche delle persone, perché l'amore per la Riete gioca un ruolo di vitale importanza. In molti pensano che sia una persona egoista che pensa molto al suo orticello e che di conseguenza quando c'è qualcosa che non va nella relazione se ne frega. Beh, vi sbagliate di grosso, perché se se ne sta fregando non è perché non gli importa nulla di voi, ma è perché non sta bene con se stesso. Ed è proprio questo il periodo che ha passato la Riete, un periodo di anonimato, se si può dire. Non aveva proprio più la sensazione di appartenere a qualcosa e ahimè si è andata a ripercuotere anche sulle relazioni a lui circostanti, sia che se siano di amore, di amicizie o anche familiari. Ci sono stati infatti dei litigi dal punto di vista familiare tra Riete e magari madre o padre o fratello che lo hanno ancora di più reso una persona, diciamo, meno sicura di se stessa, un po' più triste. Però poi, avendo ritrovato la luce in se stesso, è riuscito anche a sanare questi, diciamo, il dialogo che aveva perso con queste persone. Bisogna dire che nel prospetto del futuro della Riete, prima del 2024, ci sono delle bellissime notizie in ambito lavorativo. Sappiamo come lui abbia strutturato tutto il suo piano del 2024 al fine di poter migliorare il profitto dell'anno precedente. E nel 2024, ragazzi miei, la Riete esploderà, esploderà a tutti gli effetti. Perché quello che ha, diciamo, pianificato, soprattutto a livello di coppia, ma poi anche per quanto riguarda il futuro lavorativo per la propria famiglia, sarà un qualcosa di inestimabile dal punto di vista monetario. Perché la Riete non pensa mai in piccolo. Cioè, se ha un'idea, per esempio, di aprirsi un'attività dove si vendono gelati, sicuramente il suo gelato non sarà formato da due palline ed un cono. Sarà un gelato particolare, un gelato da persona mitomane, da persona che crede di poter superare tutti. Perché la Riete è molto competitiva e questo spirito che ha di competizione lo porta sempre a raggiungere un risultato migliore degli altri. Per cui a Riete sappi che questa energia che hai la devi sfruttare sempre e comunque, senza però trascurare chi ti ama, ma la cosa più importante è che non devi mollare mai i tuoi pensieri, i tuoi ideali, anche se qualcuno ti vuole influenzare negativamente. I distruttori di sogni sono sempre dietro l'angolo e questi ultimi bisogna sempre evitarli, non dare mai adito alle persone che non credono in te. Scendiamo ora al secondo posto, quindi la medaglia d'argento se la giudica il segno dei gemelli. Io ho dato un 8,5 come voto settimanale e il gemelli se l'è andato a meritare completamente. Potevo anche dargli 9. Ho dato 8,5 perché mi sembrava più adeguato, però, ragazzi, il gemelli sta andando molto forte. Diciamo che il suo spirito di curiosaggine lo sta portando a diventare una persona molto, molto propositiva. Avete presente quando qualcuno gli viene in mente un'idea e poi, vabbè, lì per lì gli passa per l'anticamera del cervello, magari, sì, sì, la prossima settimana la approfondisco. No, il gemelli non farà più così. Cioè, il gemelli quando ha un'idea che gli scatta nel cervello, bam, ci va dentro subito ed inizia già a fare qualcosa, inizia a coltivare qualcosa. Questo perché il gemelli si è stancato di quello che ha fatto fino ad ora. Ma non sto dicendo che si è stancato perché sta fallendo. È come se non si accontentasse più. È ovvio che come piccolo, diciamo, alert per notificare al gemelli di doversi accontentare è che il troppo storpia. Però è anche vero che, ragazzi, se non si osa, non si potrà mai sapere fin quando ci si possa spingere. Fin quanto possiamo spingerci in là. E il gemelli è in un momento come questo, in un momento in cui vuole spingere, in un momento in cui vuole rischiare, ha tanta voglia di fare, non si ferma neanche la notte ed infatti probabilmente deve riposare un po' di più perché altrimenti arriverà poi alla fine dell'anno che sarà completamente sfatto. Però devo anche dire che i risultati che sta raccogliendo sono molto buoni. I risultati si ripercuotono non soltanto, ovviamente, in lui perché è una gratificazione personale, ma anche nelle persone che lo circondano. Perché quando una persona sta bene perché raggiunge degli obiettivi e perché il successo, diciamo, è un qualcosa che lo porta ad essere motivato ogni giorno, è, per forza di cose, per forza riflessa, un qualcosa che motiva anche chi lo circonda. Perché il gemelli, essendo una persona positiva, sorridente, motivante, chiunque lo frequenti nella sua vita, diciamo che riesce ad ottenere quella motivazione per riflessione. E questo, ovviamente, è il motivo per il quale il gemelli in questo periodo se lo sta passando bene. Perché è ben voluto, è ricercato, è affascinante, per cui anche in amore, se sei singolo, il gemelli troverà l'anima gemella con uno schiocchio di dita, ovviamente dipende dal suo volere, dalla sua volontà, se è fidanzato, state attenti, ve lo ricordo, perché il gemelli è una mina vagante. Per cui, le persone saranno attratte da lui, o da lei, e voi dovete stare attenti a non cascare in quello che è la gelosia, perché i gemelli le odia, le persone gelose. Mi raccomando. Ma al primo posto, il segno più fortunato della settimana, come preannunciato nel video dell'oroscopo settimanale, è il segno dello scorpione. Sole in scorpione dal 23 ottobre, e inoltre dal 22 ottobre Mercurio è entrato in scorpione. Facendo un piccolo sunto di questi due transiti particolari, abbiamo il Mercurio, che è il pianeta della comunicazione. La comunicazione, come ben sapete, è a domicilio in gemelli, e come ben sapete, il gemelli è al secondo posto dei segni più fortunati. Per cui abbiamo un exploit a livello dello scorpione, perché lo scorpione diventerà un comunicatore, ma diventerà un comunicatore brillante. Brillante, intrigante, magnetico, con quel suo modo di fare dello scorpione, da persona talvolta subdola, però comunque un grandissimo venditore, per quello che ti sta dicendo, che le persone non potranno fare altro che cadere ai suoi piedi. Lo scorpione, infatti, devo dire che il 10 che gli ho dato come voto settimanale è dovuto principalmente a che cosa? Amore, ma soprattutto voglia di riuscire nella vita, cioè la sua forza mentale. Una forza mentale che è contagiosa, soprattutto per chi è fidanzato o fidanzata con lo scorpione. La cosa importante, infatti, che voglio sottolineare a tutti coloro che stanno insieme allo scorpione è di non litigare con lui o con lei. Se dovesse mai capitare questa cosa, potrebbe giocare a vostro sfavore. Uno, perché andreste a perdere una fonte inesauribile di motivazione e di intuito, ma due, perché lo scorpione è in una situazione in cui potrebbe realmente maledirvi soltanto guardando. Perché la sua energia è una magia che talvolta sfrutta anche le onde elettromagnetiche. Non chiedetemi come e neanche il perché. Il bello dell'astrologia è proprio questo, perché i segni dello zodiaco vanno un po' a periodi e quando lo scorpione entra nel suo periodo è letteralmente un carro armato. Ma ragazzi, lo dico che ho i brividi al braccio, ve lo giuro. Perché lo scorpione è fatto così, è dominato da Plutone e da Marte. Plutone è il pianeta dell'oscurità, il pianeta dei segreti oscuri. Come Marte è il pianeta dell'azione. Pertanto lui riesce a farti arrivare con un'azione oscura quelli che sono le sue voglie, quelli che sono proprio i suoi voleri dal punto di vista spirituale. E la cosa più importante per tornare al fatto che lo scorpione mentalmente è forte è che nel suo lavoro e nella sua realizzazione riuscirai, amico mio o amica mia. So benissimo tutto ciò che hai passato fino ad oggi e so benissimo quante ancora ne passerai. Ma quelle che passerai saranno sicuramente delle cose belle. Non saranno più motivo di frustrazione e non sarà più motivo di crisi mentale che spesso ti hanno portato anche a piangere. Seppur lo scorpione non pianga in pubblico lo si ritrova spesso a piangere da solo perché è una persona molto orgogliosa e la sua dignità almeno questo è il suo credo non vuole renderla diciamo spicciola in pubblico vorrebbe proprio dare l'idea di essere una persona forte. Però ti voglio dire che piangere in pubblico non è sintomo di persona debole talvolta ti rende una persona umana e quindi se una persona ti ama e ti vede piangere stai certo che quella persona lì non ti andrà a deridere ma ti dirà sicuramente che sai più forte sai più forte di quello che sembri e che puoi credere di più in te stesso anche se adesso non c'è il bisogno perché ci basta la tua motivazione per chiedere in te stesso. Detto ciò scorpione mio fidanzato o fidanzata non importa chiunque ti veda il tuo fascino è ancestrale entrerai in una stanza entrerai in una discoteca in un bar riceverai complimenti anche da uno sconosciuto da una sconosciuta probabilmente ti verranno offerti caffè drink quello che vuoi perché è quello che emanerai è una qualcosa proprio di istintivo che alle persone viene da fare però ricordati il tuo obiettivo quello focalizzato quello che hai quello di realizzazione sarà quello che veramente renderà il 2024 l'anno della tua vita perché quest'anno che verrà oramai dove la pandemia l'abbiamo lasciata da quasi tre anni circa e ti ha bloccato tantissimo hai avuto bisogno di questi due tre anni per riprendere in mano la tua situazione e riprendere in mano la tua vita e il 2024 sarà l'anno giusto te lo dico con il cuore in mano e spero veramente che quando avrai visto questo video ritornerai tra un anno e mi dirai Ale cazzo avevi ragione e ti ringrazio non mi devi ringraziare io lo dico perché ci credo quindi scorpione mio buona fortuna buona settimana ma soprattutto buona settimana a tutti a prescindere perché non escludo nessuno ciao